Ho una gara d'alto rischio per te. La quota di partecipazione è alta, ma la ricompensa lui è ancora di più. Ricorda, ricompense alte comportano grossi rischi. Non dimenticare che non ti basterà una sola auto. La Grand è solo per i migliori. Quattro gare, quattro auto. Quindi puoi darti al collezionismo. Autosuspecte individuata. Autosuspecte individuata. Vediamo se la tua fama è meritata. Fatto apposta. Posso aiutarti? Per caso ti ho offeso? Ehi, ci vediamo al traguardo! Non spaventarti, ma credo che ci sia qualcuno sul possedile posteriore! Ok! Mi piace la competizione! Grazioso! Ci mancavano solo gli sbirri! Non si vedrà nemmeno! E in tutta onestà, non te la cambi male! Prova a prendermi! Di pattuglia! Siamo pronti all'inseguimento! Ci sai qua! La strada! Mi chiamo proseguendo un auto volante! Futuro! Sc mirrors! Capito! Passo! Mi chiamo! Mi chiamo! Grazie a tutti. Io sto uscendo. Io e il mio vecchio prendiamo il pranzo in un posto sull'East West Corridor. Arraffiamo un po' di quei deliziosi ravioli e li mangiamo a casa sua. Ravioli? Così mi viene l'acquolina in bocca. Oh, ma allora te ne lascio qualcuno nel frigo del garage nel caso ti venisse fame. Offro io. È il minimo che possa fare. In effetti è davvero il minimo. Non c'è di che scheggia. Peace. In mei bengi. In mei bengi. In mei bengi. In mei bengi. Oh, bless me. Baby, why you sent me? Baby, can you ride with me? Oh, baby. Baby, can you ride with me? Baby, I'm so dangerous. Don't you know you are dangerous? Bencing! No, 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 no. No, 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 no. T kingичего turno in caerоль? Oh my god! This is during the alarm test. In mei bengi. Non c'è stato facile. R brancavo, per volta. Grazie a tutti. 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 Non vedo l'ora. Oh, wow, sei addirittura sul passare. Ho visto di meglio. Come non farebbe, Stevenson, pur di finire in prima fase. Grazie a tutti. 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 Crede a tutti. Ciao, 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 ciao. ... La differenza tra me e te è che io ho stile. Per stavolta banzi. Il straguardo è vicino! Credi di averta letto, eh? Sì, 4x4, gli diamo la caccia. Non durerà in primo posizione. Centrale, ti ritiriamo per ora. Mi piace. A quanto pare dovremo decollare. Ehi, è Rapparato! Non c'è la faccia di! Commenso da parte! A tutti! C'è la faccia che 20. Poi scuole. Non c'è la faccia di 3? No c'è la faccia di 3? Per la faccia delle volte. Non capire. Non capire. Non capire. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. vediamo. E così, a tutti. non aspettavo... , Non si vince niente all'inizio della gara. Ti diverti a giocare all'autoscorto con gli altri veicoli. L'autriscia chiodata più avanti dovrà cercare il soggetto. 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 Qualcuno dovrebbe insegnare a quest'iliota a guidare. Non ci ha pregusto la soddisfazione della cattura. La striscia chiodata più avanti dovrebbe fermare il soggetto. Ma che problemi ha? Mi pare a guidare, imbecille! A tutte le unità, attenzione! L'auto è arrivata a Lake Virgil. Come abbiamo fatto a perdere quell'auto? C'è bisogno di unità a Lake Virgil. Sai una cosa? Questa storia finisce adesso! Giaca al flipper con le altre auto! I rinforzi sono quasi sul posto. Non perdete di vista l'auto fospetta! Non so se riusciremo a star dietro a quell'auto. Centrale, intersector presente. Stiamo inseguendo il soggetto sull'autostrada centrale. A tutte le unità, imparazzatevi di quell'auto! Riprendiamo l'inseguimento! Stiamo colpiato sul collo, criminale! Per ora ci chiamiamo fuori. No scop Non resisteremo ancora lungo! Resistete, stanno arrivando altre unità! Qualcuno riceverà una bella strigliata per aver perso quell'auto. Il soggetto è svanito nel nulla a Douglas Park. Occhie aperti! Tornatela fuori e fate il vostro stramaledetto lavoro! Ehi, scheggia! Ricordi quando ti ho detto che avevo qualche lavoretto da proporti? Come no? Hai qualcosa per me? Ci puoi scommettere. Ho una McLaren P1 da ritirare e consegnare. Ci stai? Scherzi? Chi non vorrebbe guidarne una? Beh, allora è il tuo giorno fortunato. Ti mando la posizione. Vado! Torno a casa a dormire. Raidel è ancora al garage a guardare la partita degli Spins. Oh, fantastico. Speriamo che vincano. Non so perché continuo a tifare per quella squadra. È dagli anni 90 che non ne combinano una buona. Non si può biasimare la dedizione di un tifoso. Fedele fino in fondo. Oh, che tenerezza. Raidel è così. Oh, siete adorabili. Dovrei ricamarvi un cuscino. A dopo, Tess. A dopo, Tess. Grazie a tutti. 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 Prendiamo quell'idioto. Prendiamo quell'idioto. La prossima volta non deve sfuggirci, chiaro? Grazie a tutti. 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 Che c'è? Che c'è? Interceptor fermate dai criminali. Interceptor fermate dai criminali. Basta così, abbiamo perso l'auto. Grazie a tutti. 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 Facciamo che stavolta stai dietro tu A quanto pare vincerò la scommessa A quanto pare vincerò la scommessa Continua schiazca, teniamo l'inferno, gente, fermiamo quell'auto Il soggetto è al volante, c'è una mazza Centrale, abbiamo trovato l'obiettivo Qui centrale, ultimo avvistamento del soggetto a Edgewater Interceptor presente, operativa La striscia chiodata più avanti dovrebbe fermare il soggetto La pesante sul posto Comando, in sede è destinata con il resto della squadra Interceptor fuorizzato Comprovare a mandare l'auto fuori strada Niente da fare, centrale Presto vedrete arrivare i rinforzi Niente da fare Niente da fare Cerchiamo di far andare l'auto fuori strada A breve arriveranno altre unità ad aiutarvi Il posto di blocco più avanti dovrebbe fermare quell'auto Il soggetto è stato visto entrare a Lake Virgil Non tornete di vista quell'idiota Mettiti davanti, tira il primo a mano e vedi se accosta Il soggetto ha sfasciato la sua auto Non è stato piacevole Ehi, dimentica la polizia Tornala fuori e recupera quei soldi Io credo in te Mancano due giorni alle qualifiche Per te la matricola può farcela Siamo messi bene Ma anche Yaz e la sua crew non scherzano Si dice che stiano investendo molto nelle loro auto Faremo in modo di stare al passo Dimmi se vi serve aiuto Posso trovarvi qualche lavoretto per arrotondare